Perfetto, ci avremo set delle rettaglie, allora, questo emot è uguale, mi piace, bellissima, non la posso avere, perchè devo sbloccare tutti i cosi della pagina anche, ah potrei, però devo sbloccare tutti i cosi della pagina, quindi non posso lo stesso, e ma cosa dovevo comprare, ah, poi c'è questo, attualmente la sto usando, sta lama, sta lama, quindi, ma la potevano chiamare gata, no, vabbè, quindi io direi, dai, ma perchè prequisì, dai, dai, ecco, allora, intanto c'è un nuovo stile per tutti loro, ed è questo, molto bello, produrso quello di Mina, ecco, quindi, katana, versione, anche questa c'è una nuova versione, che c'è schifo, in pratica, ma allora, potrei, ci può fare, ci può fare, c'è, rischiamo, allora, intanto qui vedete, non mi da, sapete perchè, perchè è facilissimo, guardate, eh no, così l'ho cambiato, ecco, così, voi lo potete fare direttamente da qui in Mina, cioè, anche i piedi, ecco, ecco fatto, cioè, però io lo uso un pochino così, che è molto, mi piace di più, allora, negozio oggetti, l'impiango di averti comprato, guarda, vabbè, oh, c'è l'hans diamante, perchè è un hans, allora, molto bella una skin, lo posso avere, no, beh, io direi di farmi una partita nel frattempo, perchè, sì, vediamo, arena, ho capito, potresti fare, arena, arena, tipo, duo, però, allora, ecco, arena duo senza duo, perfetto, cioè, perchè mi serve, un'arena 1, se posso avere l'arena 2, duo, come si chiama, duo, sì, duo, cioè, almeno troverò persone con il microfono, speriamo, cioè, speriamo, 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 speriamo speriamo, 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 come, speriamo, 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 una, ma, perché, che sono mutato perché già so ho fatto tutti i test prima di iniziare non sono mutato quindi bene dalle cuffie non sono mutato ed dagli altri ma non è possibile e sì te l'ho detto allora me lo vedi lì dio però oppure te lo devo scrivere in chat e lì sotto sotto la barra degli xp che